Ciao Alessia, sono Francesca Iva Canosi, lavoro come sorvegliante in un museo di Torino e il mio pensiero è questo, avendo 60 anni e 13 anni fa ho rischiato di morire per mano del mio ex marito, ho pensato bene che sia meglio tutto sommato l'unione tra noi donne, mi ha insegnato molto tutto questo e quindi propongo questo e confermo, uniamoci tra noi donne e con sincerità a questo punto vi saluto tutte quante, sono felice di far parte di questa maratona delle 100 donne vestite di rosso, saluto tutti quanti quelli che parteciperanno, ciao Alessia